Si tratta di un disservizio, nessuno pagherà una multa per il pagamento dei bollettini dell'Atari giunti ai cittadini di Roseto a scadenza già avvenuta. Lo fa sapere il sindaco Ennio Pavone che si scusa con i propri concittadini. In realtà l'Atari, che poi è la Tarsul, la Tassa sull'immondizia, le comunicazioni sono state trasmesse qualche giorno dopo effettivamente la data di scadenza del 31 ottobre, la prima rata, la seconda rata scadrà il 31 dicembre, ma sono avvisi bonari che non comportano sanzioni qualora fossero pagati oltre il termine di scadenza. A scatenare le polemiche erano stati bollettini con scadenza 31 ottobre, giunti nelle cassette delle lettere in ritardo. La gestione del servizio, spiega Pavone, era stata affidata ad una società esterna al comune. La società Alley e il servizio postale, privato anch'esso, era stato scelto in base a un costo ridotto, sempre per non pesare sulle tasche dei cittadini. Ecco dunque il vulnus del disguido, che però non comporterà nessuna mora. Per quest'anno, diciamo, ci siamo avvalsi di una società privata, sono stati stampati tutti i bollettini dalla nostra società informatica, la Alley, e poi ci siamo avvalsi di una società privata, che è postale, che ha un costo inferiore, sempre nell'ottica di quello che oramai è diventato questo ritornello comune della spending review, cioè di cercare di ridurre i costi. Qualche disguido c'è stato, sicuramente, ma sono 12-13 mila avvisi che sono partiti, quindi tante sono le famiglie rosetane, e quindi è ovvio che nella legge dei grandi numeri ci sono state magari qualche problema di errore o qualche cassetta in più, diciamo, più piena di quello che doveva essere. Tengo a precisare, ripeto, che qualora fossero pagate oltre i termini, non sono previste sanzioni per i ritardatari, perché si tratti di avvisi bonari, e che chi non ha ricevuto, non avesse ricevuto ancora l'avviso di pagamento, noi nel sito del comune abbiamo messo l'indirizzo e-mail a cui si può richiedere anche la stampa dell'avviso e la trasmissione via e-mail da parte dell'ufficio ragioneria, oppure chi non ha questi sistemi informatici può rivolgersi, qualora non l'avesse ricevuto, a nostri uffici di ragioneria.